Si parla tanto del DUP, ci sono favorevoli e contrari, centrodestra favorevole, linea di massima, centrosinistra contrario, coalizione civica? La coalizione civica è contraria all'impostazione del DUP e alle scelte che sono contenute. Questo fa parte proprio delle ragioni, del fondamento della nostra nascita e del nostro impegno politico, quello di avere una strategia per una città del futuro che sia vivibile, piuttosto che fare interventi spot poco approfonditi e comunque, per esempio, nel caso dell'Università del Mare, ambigui e che non hanno alcuna, da un lato, possibilità di essere effettivamente realizzati in modo sostenibile, dall'altro, contrario allo sviluppo che è stato deciso, tra l'altro, tra università e comune da tempo, e su cui c'è un masterplan approvato dal Consiglio Comunale che non è stato messo in discussione. Quindi abbiamo un DUP schizofrenico, cioè la strategia non è stata toccata, si elencano opere nella parte operativa che non si sa dove vengano, diciamo così. Quindi per noi è una scelta sbagliata nel metodo e nel merito. Secondo voi la destinazione migliore per l'ex COFA quale sarebbe? La destinazione migliore intanto la deve scegliere la città, per una volta davvero ci deve essere un coinvolgimento. Quando io ero nell'amministrazione avevamo stanziato dei fondi per un concorso di idee che puntasse nell'ambito di un complessivo ripensamento di tutto il waterfront e anche del parco fluviale, quindi con una vocazione ambientale, turistica, sportiva che è quella di quelle aree e non sicuramente concentrazione, afflusso, funzioni che attraggono moltissimo traffico, moltissime persone in un mischiume di cose che non ha senso. Bisogna, diciamo tanto, se detto tanto in campagna elettorale, delocalizziamo, valorizziamo anche le cosiddette periferie, si continua a pensare che debba andare tutto in pochissimo spazio.